Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita in un immobile presentato dal manager dell'affitto Giuseppe Di Napoli. Ci troviamo a Limbiate in zona San Francesco in un bilocale arredato. Ingresso su soggiorno con cucina vista. Appartamento ristrutturato recentemente, completo di arredi moderni e nuovi. Piastra induzione. Riscaldamento con condizionatore con pompa di calore. Disimpegno che conduce al bagno con doccia. Ripostiglio lavanderia con lavatrice inclusa e un piccolo sopparco. Camera da letto matrimoniale con ampia armadiatura. Eccomo. Per tutti i dettagli su questo immobile visite il sito www.limbiate.soroaffitti.it Per la cultura dell'affitto visite il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti. Affittare con sicurezza. Grazie. 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 Grazie.